La matrice potrebbe essere la stessa degli atti vandalici che hanno preso di mira altre sedi della CGL. Scritte e simboli sarebbero infatti gli stessi con cui sono state imbrattate precedentemente le sedi di Pescara e Teramo del sindacato dei lavoratori, preoccupato per il reiterarsi di episodi che potrebbero anche aggravarsi col tempo. L'ultimo avvenuto nella sede della CGL di Ortona in via Mancini. Già allertate le forze dell'ordine con i carabinieri impegnati a individuare i responsabili dell'ennesimo atto vandalico come dichiarato da Maurizio Di Martino, segretario dell'organizzazione con delega alle sedi della CGL per la provincia di Chieti. Questo è il terzo episodio che ci vede direttamente coinvolti all'esterno delle nostre sedi. Abbiamo già avuto un attacco alla sede di San Vito ma derubricato come una ragazzata, qualcuno che cercava un piccolo fruttarello e poi alla sede di Chieti abbiamo avuto un attacco da parte di Forza Nuova con dei volantini infamanti ed oggi ci troviamo qui questa mattina ad Ortona a avere questo risveglio così traumatico. La compagna che è venuta ad aprire gli uffici ha trovato queste scritte, giustamente siamo stati allertati immediatamente e questa cosa ci preoccupa. Prima di Ortona è stata colpita Teramo e Pescara e noi crediamo che dietro ci sia una matrice unica, una rete regionale, non può essere opera solo di uno sconsiderato. Sono fenomeni concatenati, sono attacchi periodici che noi subiamo, è chiaro che la preoccupazione è ai massimi livelli. Domani riuniremo l'esecutivo a Chieti e decideremo il da farsi per fare in modo che questi episodi vengano come dire circoscritti perché oggettivamente è una forma di pressione che è inaccettabile. Vi sentirete anche con i vertici del regionale visto che insomma scritte e simboli sembrano gli stessi che come diceva lei prima hanno colpito anche Teramo e Pescara? Sicuramente, sono stati già tutti informati e quindi probabilmente anche a balle del congresso regionale che faremo nei prossimi giorni a Pescara ci sarà anche uno spazio per questo argomento da mettere sul tavolo e da attenzionare immediatamente. Chi avete allertato? Le forze dell'ordine? Sono arrivati già i carabinieri che hanno fatto i rilievi del caso e quindi insomma ospichiamo dei buoni risultati dalle indagini magari confrontando anche queste scritte con quelle rinvenute sia a Teramo che a Pescara, ripeto sia la sensazione che sia la stessa mano, la stessa matrice. I simboli sono gli stessi, si parla della galassia Novax probabilmente che vede nella nostra organizzazione sindacale un obiettivo da colpire perché noi abbiamo perseguito quello che era giusto e doveroso fare a suo tempo, dare ascolto alla scienza e non ai cerlatani del momento.